guarda la vannaccia miseria mi sono un po' caschito che hanno giusto meno male che hanno giusto a chiù no ma guarda la vannaccia miseria cosa può fare veramente è nascita cosa guarda guarda che siamo grave no ma guarda la come hai vinto questo ci ho fatto 26 con il pompa tattico blu ok sta calcio merda che è imbutato l'asciugamani nel colgo del caso di lato di e lo noto un caso di uno che c'è la pappa cosa gioca tranquillo sempre a parte che la parte che spalla un po è vero a parte scomma un po roba sono messo a spammare per entrare a mare parte del gioco ragazzi ma vuoi morire a posto certo fino a volto dietro anche giustamente tutta me lo deve sparare va bene ma chi le sta il trailer dando un po a curco e certo scendi per salire ma perché scendi ma perché scendi però prendo ma per sorprenderlo no guarda la una certa cosa wow ma che cazzo quando serve nei vicini scine e tena ma che miseria la porta dei 50 non ti piaceva vero no ormai ormai cazzo pago so dove è sto animale con la pioggia oh oh bene non è che scherzo tanto prima mamma che sta succedendo guarda come muoio per la safe no ma già ma si è rimasto tutto no ma che cazzo stai ma che cazzo stai ma che queste cuffie di sabbia ma che me te le aveva ma che cazzo 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 come cazzo 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 io guarda che farà di una carta 2 ma se stai al secondo posto guarda la latino di uomo ma come se ne va già un po' strunzi guarda la guarda la coppia c'è una miscia bravo bravo ma no bravo ok è certo ma non è smettere ma non era niente farà una mi spunta l'altro da dietro è oggi stasera me dov'è sto stronzo ragazzi visto che voi lo direi sempre rimasti in due se rimasti ma guarda la misa nanzo cazzo l'albero c'è ma con questa terza che cazzo significa il primo sti silenziano ursaio ma non voglio parlare perché mi stai addormenti ma cosa sta scorreggendo tuo padre non adesso io ti scorreggio il test ma guarda così insomma ancora ma purtroppo c'è la darkfield come mai è successo ma che è darkfield con un cecchino ma lasciatemi vivere lasciatemi vivere mannaggia testa zittimo pazzi non c'è dimmi vivere lui lo dice lasciatemi vivere lui faccio testa zitto e gioco mannaggia cercava il muro e' il senso che sono i partiti due semmo guarda sempre i forsei vaga accoglio riparano vaga accoglio Guardate là come cazzo, non c'ho già capito più niente, guardate là. Ho fatto cento e poco almeno cosa devo fare, che p***e? Ma no, non c'è solo colpi, non c'è solo! Ma non c'è solo colpi, non c'è solo colpi. Lì, io ci trovo un po' quasi. Ma non c'è solo colpi, ma non c'è solo colpi. Tu che pazzì, ma non c'è solo colpi, ma che cazzo? Giavan è ultimo, erano secondi No, ero terzo Ehm, ero terzo Ehm, ero terzo